Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Banca rotta fraudolenta arrestato l'imprenditore fanese Stefano Cordella denunciate 16 persone perquisite 20 società Sorvegliato speciale scoperto fuori dal suo comune arrestato un pregiudicato di Semigallia Domani torna Missione Salute con i medici di Marche Nord nella settima puntata si parlerà della radioterapia Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale lo avete sentito dai titoli l'imprenditore fanese Stefano Cordella è stato arrestato dalle fiamme gialle con l'accusa di banca rotta fraudolenta da oltre 6 milioni di euro sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio faceva la bella vita Stefano Cordella imprenditore fanese di 48 anni arrestato dalla guardia di finanza di Pesaro per una presunta bancarotta fraudolenta da 6 milioni e 300 mila euro aveva una casa a cortina una residenza in un antico palazzo del centro storico di Fano e interessi economici in varie regioni d'Italia a lui farebbero capo 18 società ha gestito ristoranti, stabilimenti lungo le spiagge di Fano e Senigaglia è stato vicepresidente del Fano Calcio e si è cimentato nella piccola editoria web le indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Pesaro e condotte dal nucleo di polizia tributaria sono partite nel 2015 dalle vicende di due società di pubblicità poi dichiarate fallite che si occupavano della vendita di servizi per la fornitura di energia elettrica gas e telefonia di liste di nominativi da contattare tramite il call center fra queste che bolletta a lui riconducibile dall'esame delle procedure fallimentari è emerso che Cordella di fatto era l'amministratore delle due società anche se non figurava e gestiva la contabilità e i rapporti con le banche secondo l'accusa avrebbe fatto continui prelievi di denaro dai conti correnti per un totale di oltre 6 milioni di euro nell'arco di tre anni i finanzieri hanno scoperto che i prelievi di denaro erano stati dirottati in gran parte su conti correnti personali dell'arrestato e li garantivano un tenore di vita molto elevato case in famose località turistiche e frequentazioni di ristoranti di lusso una parte dei soldi sottratti sarebbe stata impiegata per finanziare nuove società per confondere le acque l'imprenditore fanese avrebbe registrato con nomi molto simili fra loro le varie aziende che costituiva prima che fallissero trasferiva le sedi delle società in altre province sostituendo l'amministratore in genere un pressanome nulla tenente che acquisiva anche le quote societarie e intanto molti dipendenti restavano senza lavoro le fiamme gialle oltre a denunciare altre 16 persone nell'ambito dell'operazione denominata ultima spiaggia hanno perquisito 20 società attive a Fano Senigallia, Rimini, Padova, Milano e Sant'Angelo Invado e le abitazioni degli indagati con il sequestro della documentazione contabile bancaria e informatica dai controlli è saltata fuori anche un'ulteriore frode processuale compiuta nei confronti della commissione tributaria provinciale di Ancona il suo nome era finito sui quotidiani per la vendetta di un ex dipendente un bagnino 55 anni di Fano licenziato da una delle due società l'uomo, poi denunciato a piede libero si era messo a scrivere frasi ingiuriose contro Cordella sui muri della città compresi quelli della caserma dei Carabinieri e del commissariato di polizia in una nota la Guardia di Finanza lo ha definito un imprenditore che con spiccata capacità criminale e totale assenza di scrupoli ha attuato la condotta di bancarotta solo per fini di lucro e per perseguire vantaggi personali a Mondolfo invece è stato arrestato un pregiudicato di Senigallia sottoposto a sorveglianza speciale Girovagava per le campagne di Mondolfo ma durante un controllo i Carabinieri lo hanno fermato e arrestato l'uomo infatti un 48enne di Senigallia ma nativo della provincia di Lecce era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiurno nel comune di residenza era sera quando i militari hanno notato e seguito un'autosospetta tant'è che pensavano di aver intercettato una banda di ladri e invece dentro alla Citroen Xara c'era l'uomo alla guida con a fianco una donna in apparenza sembrava una normale coppia in cerca di intimità ma quando i Carabinieri hanno chiesto i documenti la donna ha detto di avere dei crampi addominali brividi e mancanza di fiato il 48enne esagitato ha raccontato che la convivente soffre di crisi di panico e che per questo motivo era appena uscito da un incontro con la psicologa che la segue l'esagerata fretta di andarsene l'agitazione e soprattutto la presunta visita allo psicologo in tarda serata hanno insospettito le forze dell'ordine che hanno chiamato l'ambulanza per accertamenti a confermare i sospetti è stato proprio il medico del 118 la donna non aveva nessun attacco di panico era solo una scusa per cercare di svignarsela una volta accertato che l'uomo era un sorvegliato speciale con precedenti per furti in abitazione e che non aveva nessun permesso per recarsi a Mondolfo è stato condotto in carcere dopo la convalida dell'arresto il giudice ha disposto al pregiudicato l'obbligo di firma giornaliero e anche questa sera diamo spazio alle vostre segnalazioni i residenti e commercianti di Ponte Sasso chiedono di allargare il passaggio pedonale sulla nazionale per aumentare la sicurezza dei pedoni le segnalazioni dei nostri telespettatori questa volta ci hanno portato a Ponte Sasso frazione estrema di Fano verso sud tempo fa il comune spostò le strisce pedonali che si trovavano in corrispondenza del sottopasso che conduce al litorale e che attraversano la nazionale più a sud perché considerate in una zona pericolosa ci dicono i residenti ma la situazione non è migliorata di molto perché ora dal sottopasso alle strisce si devono percorrere 500 metri sul ciglio della nazionale adriatica cosa che non è proprio il massimo della sicurezza visto l'esigo spazio meno di un metro a disposizione di pedoni mamme con passeggini e carrozzine per anziani o portatori di handicap il discorso è che se qualcuno passa lì siccome lo spazio è strettissimo i calzonetti sono vicino alla statale qualche camio può agganciarli e li può uccidere quindi se poi succede qualcosa poi magari piangiamo dopo invece è meglio prevenirle queste cose addirittura qualcuno per queste difficoltà preferisce attraversare in un luogo un po' più avanti qui proprio di fronte al sottopassaggio dove ci sono le strisce rischiando veramente il massimo proprio per non fare questo pezzettino di statale per non fare questo pezzettino di statale che praticamente essendo il camminatoio il marciapiede chiamiamo che non è un marciapiede chiamiamo così che è troppo stretto e quindi diventa pericolosissimo e come vedete siamo proprio a ridosso della statale adriatica questa è la striscia bianca che delimita il pezzo dove si può camminare e dove è la carreggiata delle automobili qui effettivamente chi viene qui per buttare la spazzatura o gli sfalci se passa un mezzo grande un camion o un auto articolato gli fa proprio il pelo ma più avanti anche c'è proprio il passaggio che dovrebbe essere quello dove dovrebbero camminare le persone una volta che hanno attraversato la strada praticamente si ritrovano qui ma vedete qui l'asfalto non arriva fin dove c'è il campo ma c'è il breccino e qui effettivamente una carrozzina o un passeggino sono a metà e insomma con problemi anche di stabilità basta un attimo che si passa di là e come vedete le macchine passano molto vicino con l'approssimarsi della stagione estiva e della presenza dei turisti si intensificherà sicuramente il traffico pedonale dal mare all'interno e verso gli esercizi commerciali e questo preoccupa non poco gli operatori del settore vista anche la folta vegetazione che non rende certo agevole il percorrere il camminamento destinato a pedoni e ciclisti in virtù della stagione estiva siamo un po' preoccupati perché questo passaggio pedonale è molto pericoloso è poco visibile anche dalle macchine che transitano e anche la parte pedonale che arriva al sottopassaggio è curata male dal malto stradale che è ghiaioso e i bidoni della spazzatura che impediscono diciamo il passaggio pedonale per il mare l'altro problema di questo attraversamento pedonale è il fatto che praticamente non c'è lo spazio qui per proprio anche una carrozzina un portatore di handicap noi siamo con i piedi nell'erba e la carrozzina sarebbe in mezzo alla strada esatto esattamente proprio così cioè qui non c'è alcuno spazio praticamente dove si cammina fa parte della caraggiata della strada in pratica è ancora cronaca grazie alla segnalazione di un paziente insoddisfatto da un'otturazione la guardia di finanza di Ancona ha scoperto e denunciato un falso dentista che eseguiva interventi a prezzi stracciati e non pagava le tasse dal 2010 lo donto tecnico un cinquantenne di Ancona lavorava sia nello studio medico dorico di un vero dontoiatra di Pesaro sia in una clinica in Serbia pubblicizzata su internet con pacchetti di viaggio stogiorno e cure dopo vari appostamenti finanziari hanno perquisito lo studio di Piano San Lazzaro ad Ancona sorprendendo l'uomo mentre eseguiva un intervento di otturazione il titolare dello studio invece è stato denunciato in concorso il locale era dotato di tutte le attrezzature con tanto di segreteria e assistente alla poltrona cambiamo argomento nella sala di rappresentanza della fondazione Cassa di Risparmio di Fanno venerdì si terrà un convegno sui trapianti di organi pensate che in cinque mesi quasi 600 fanesi hanno detto sì alla donazione nel comune di Fanno come in altri comuni marchigiani è possibile da qualche tempo al rinnovo dei propri documenti anagrafici esprimere il consenso non definitivo all'espianto di organi in caso di decesso da quando è stata istituita questa possibilità ai servizi demografici del comune di Fanno sono state sottoscritte 580 dichiarazioni positive andando ad analizzare i dati del 2015 scopriamo che tutta l'area vasta 1 è una zona virtuosa con 14 donatori 5 a Fanno 6 a Pesaro e 3 a Urbino superando il polo anconetano che si attesta solo su 11 donatori ma contando su ben 4 rianimazioni inoltre a Fanno sempre nel 2015 sono avvenute 22 donazioni di rene e 44 corne ed eseguiti nel 2016 già 10 interventi di trapianto corne ma di donatori e di donazioni non se ne hanno mai abbastanza viste le lunghe liste d'attesa di chi spera in un trapianto per allungare la propria aspettativa di vita di questo e di altro si parlerà venerdì 27 maggio nella sede della Fondazione Carifano per le giornate nazionali donazione e trapianto a cura dell'atto Marche la zona della provincia di Pesaro che collega l'azienda Marche Nord e l'area vasta numero uno è una delle fornitrici di organi se possiamo dire così parola fornitore delle più alte percentuali speriamo che continui ancora noi chiediamo quindi ai cittadini di partecipare alla manifestazione che facciamo in occasione della giornata nazionale daremo questo libretto dove sono tutte le informazioni perché prima di donare di iscriversi prima che la gente sappia che cosa significa il trapianto e che cosa significa la donazione noi abbiamo ovviamente investito in questo progetto con la formazione con l'adozione di software adeguati e collegamento con il centro organi di Ancona ecco e adottando ovviamente anche formule di promozione sia all'interno degli uffici e quindi degli sportelli di rinnovo e rilascio della carta d'identità ma costruendo dei percorsi insieme a lato in particolare e ad altre associazioni di promozione di questa importantissima scelta che ogni cittadino secondo me dovrebbe fare di poter decidere di donare proprio gli organi ad altre persone Un incidente per fortuna senza feriti si è verificato questa mattina poco dopo le 9 nel quartiere Sant'Orso a Fano una donna fanese di 71 anni alla guida di una Toyota stava uscendo dal parcheggio di via Soncino per immettersi sulla strada principale quando ha urtato un 62enne a bordo di uno scooter sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi di legge e procedono i lavori di asfaltatura nella città di Fano oggi sono cominciati via Gentile da Fabriano la strada quindi rimarrà chiusa al traffico per qualche giorno sarà vietata la sosa e soprattutto la circolazione dei mezzi salvo gli accessi per i residenti cantiere al via per un piano di asfaltature anche a Monbaroccio grazie allo sblocco del patto di stabilità il comune utilizzerà risorse per 230 mila euro quelle quali verrà ristrutturate in maniera definitiva via Turlo una delle strade comunali più importanti per la viabilità i lavori iniziati in questi giorni dureranno circa due mesi cambiamo argomento domani sera dopo il nostro telegiornale torna Missione Salute allora nel prossimo servizio di Lino Balestra capiamo quale sarà l'argomento della settima puntata il prossimo appuntamento con Missione Salute Marche Nord istruzioni per l'uso sarà con il reparto di radioterapia di Muraglia e di suoi medici guidati dal dottor Faisal Bunkeila responsabile dell'unità operativa ospite in studio assieme ai suoi colleghi che ci guideranno in questa branca della medicina che a Marche Nord si esprime a livelli di eccellenza parleremo della radioterapia faremo un viaggio nel riparto di radioterapia cercheremo di far capire alla gente che cosa si intende per radioterapia e cosa si fa in radioterapia per per lo più del pubblico la radioterapia è una branca sconosciuta non conoscono assolutamente il significato cercheremo di chiarire proprio questo aspetto come sempre nella seconda parte della puntata voi telespettatori potrete rivolgere domande ed osservazioni direttamente ai medici ospiti in studio attraverso le telefonate chiamando Fano TV allo 0721 861433 dalle 20.45 in poi dopo il Tg occhio alla notizia e domani a Fano si terrà un incontro pubblico rivolto ai residenti che hanno ricevuto una lettera di esproprio da parte di società autostrade per realizzare le opere accessorie alla terza corsia della 14 l'iniziativa che si svolgerà alle ore 19 all'ex chiesa di San Leonardo in via Cavour è stata organizzata dall'associazione tutela espropri interverranno tecnici ed esperti per spiegare ai proprietari interessati le procedure espropriative i giusti valori di indennizio che devono essere corrisposti le possibili tutele e le scadenze entro cui è necessario attivarsi a Berlocchi di Fano si è svolta con la benedizione del parroco Don Giuseppe la seconda marcia podistica amatoriale per l'endicap intitolata Camminando con Don Orione più di 350 i partecipanti prime fra tutti le ospiti di Casa Serena con i loro familiari amici e volontari anche quest'anno l'acli di Berlocchi ha vinto il trofeo per il gruppo più numeroso seguito al secondo posto dai piccoli alunni della scuola paritaria San Sebastiano durante la marcia è stata garantita l'assistenza sanitaria e dei medici mentre la viabilità è stata agevolata dai volontari della protezione civile dalle forze dell'ordine uscirà a giugno in occasione della quarta edizione di Passaggi Festival la nuova guida turistica della città di Fano scritta per l'occasione da Manuela Palmucci e Carolina Iacucci intitolata Passaggi in città 10 più 10 cose da vedere e fare a Fano si tratta di una guida documentata che contiene alcune curiosità storico-artistiche aneddoti di ritualità e folclore e consigli su come passare il proprio tempo tra il centro storico il mare e la collina bene con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata grazie per la vostra attenzione